In mille proroghe, come tanti altri decreti, è la dimostrazione del fallimento di questo governo, dove vuol mettere dentro, vuol inserire tutto ciò che non è riuscito a inserire nel decreto Salva Roma e Napolitano tra l'altro si è svegliato tardi per il semplice motivo che noi da nove mesi denunciamo che i decreti omnibus non funzionano e sono l'esempio del fallimento di questo governo.